Questo così, quest'altro così e direi che ho finito Oh, finalmente Stef, hai finito Sì, Fede, ma sai che cosa stavo lavorando almeno? No, però l'importante è che tu abbia finito, penso sia un buon segno, no? No, allora Non sei esploso, quindi va bene Stavo facendo l'ultima creazione per la tua promessa Però il fatto che tu non sappia nemmeno a che cosa sto lavorando è una vergogna Allora, ti dico una cosa Sei tu l'ho scienziato qui No, lo sei anche tu, i cambi ce lo dimostra Nel mondo di Minecraft ti sembra tutto normale Ma ci sono delle nuove creature che ci aspettano Quindi adesso andremo in giro ad esplorare E a cercare delle nuove creaturine che ti faranno impazzire E ragazzi, come va? Io sono Fernicky E sono Stef, che se ci chiama Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft E torniamo nel nostro laboratorio Bene Stef, presentami la tua ultima creazione Così poi io deciderò se continuare con te questa avventura oppure no Allora, io mi sa che quest'oggi non ti presento proprio un bel niente Perché so benissimo che ciò che ho creato Ciò che ho portato nel mondo Non è facile da trovare Quindi credo che salvo una fortuna incredibile Dovremmo andare ad esplorare per un bel po' di tempo Di conseguenza voglio anche lasciarti la sorpresa di che cosa incontrerai E io ho un pochettino di cose pronte per il viaggio Ho anche un po' di cibo Quindi direi che possiamo andare Io non ho nulla Stef Lo so, non è un caso Andiamo Andiamo Allora, siamo fuori Come puoi vedere è tutto normale Guarda qua anche ho riparato un pochettino tutto il disastro del nascondino Fere così almeno siamo tornati ad essere delle persone abbastanza civili E direi di andare da questo lato E totalmente a caso ti dico che troveremo queste nuove creature Ok, semplicemente nei biomi dove c'è l'erba Quindi anche in questo momento ne avremmo potuto trovare già la nuova creatura Quindi basta camminare ed esplorare insomma Niente di strano, giusto? Esatto, noterai una cosa strana Però per ora non la vedi Eccolo Fere, Fere, Fere Guarda, guarda, guarda L'abbiamo trovato Eccolo qui, eh Hai visto che bel cavallo? Ma Stef è un cavallo Lo so, infatti ti sto prendendo in giro Non ha niente di strano Tanto sono spiritoso Ho detto io che è stato pazzo oggi Vabbè Come sempre Ma vuoi provare a indovinare di che cosa si tratta? Oppure vuoi proprio rimanere ormai Voglio la sorpresa Perché ormai mi hai fatto tutta questa grande presentazione Quindi mi sembra ingiusto avere uno spoiler e rovinare tutto Allora, facciamo che ti faccio uno spoiler su qualcos'altro E non sull'estetica delle creature che andremo a trovare Ok Ti dico che possono essere i nostri compagni Che possono lavorare per noi E che ci possono seguire Ma hai fatto degli schiavetti Per sempre No, Fere Sì, degli schiavetti Non li chiamerei mai degli schiavetti quando li vedrai Dipende Se non la faccio da schiavette o sì No, sono troppo carini E comunque ti potranno seguire Difendere Lavorare per te Quindi potresti affezionarti tantissimo Pensavo di averne trovato uno Però sì, non ne trovo neanche uno, Steph Mi sa che c'è sbagliato qualcosa Non ha paio Gli schiavetti sono stranissimi in questo mondo Sì, sì, sì Sembra un calamaro Mi è venuta fame In effetti, tecnicamente È più realistico Perché è un calamaro Mi è venuta fame, Fere Smettila, Steph Andiamo avanti Fere Dimmi Mi ho visto uno Dove? Vieni Io ancora non l'ho visto Dove? Vieni, vieni, vieni Aspetta che l'ho perso Corrono, ecco Come l'hai perso? Corrono, corrono Ma tu beh, che cos'è soprattutto? Eccoli, c'è una famigliola addirittura Ma sono blocchetti di terra Sì Vieni a vederli di faccia Vieni a vederli di faccia Ma che bellini Dimmi che non sono troppo carini Guarda Oh mamma mia, la faccia è la cosa più bella E adesso come la chiappo? Devi raccogliere dei fiori E dargli dei fiori E non sto scherzando Funziona la vera così Devi prendere tanti Vogliono un sacco di fiori Sì, sì, sì Anche in base alla grandezza Loro sono più o meno felici Ma, ma Cioè mi stai prendendo in giro? No, no, no Cioè è vera questa cosa Loro sono felici con i fiori Non so bene perché Cavolo, ne ho preso uno E l'ho appena perso Aspetta, vado a prendere qua Che ce ne sono tanti Sì E li raccolgo tutti Allora Lo vuoi tu O no? Perché ti dico Praticamente tu non puoi scegliere Quali trovi Nel senso che Non è che se vai tipo In mezzo alle rocce Trovi quello di Cioè di Cobblestone e così via Trovi Casualmente Blocchi vivi In giro per il mondo Ok Quindi devi scegliere Se vuoi questo qua di terra O se vuoi aspettare Di trovare un blocco Che trovi più carino Come sono gli altri? Beh, gli altri sono La Cobblestone Il legno Ah, quindi tutti i blocchi Tutti i blocchi Sì, sì, sì Quindi devi vedere un pochettino Se vuoi andare sul Gran Classico E non li posso prendere tutti? No, Fede Ne puoi avere solo uno Non puoi essere, Avara Lo sai come funzionano le cose Ma scusa Allora Tu sei una persona normale Ne prende uno Io che amo tutte queste cose Lo sai che sono i miei pettini preferiti Da adesso in poi Vabbè Ne posso avere tre Fede? No Tre, dai Uno Tre Ti ho detto uno Due Uno L'ultima offerta, Steph Due Ma che ultima offerta? Io me ne prendo tre La faccio io l'ultima offerta Io me ne prendo tre Fede mi sono ricordato Soltanto adesso una cosa Chiedo Venia Lo sai che le mie Accidenti a te, Steph Accidenti a te Che ogni volta ti ricordi le cose a metà Dovresti fare qualcosa, Steph Tipo andare in farmacia E chiedere qualcosa per la memoria Perché secondo me Dei problemi gravi Cioè, non lo penso solo Io penso che stiano iniziando A pensarlo tutti Fede Ho fatto la creazione E mi sono dimenticato Di questo dettaglio Comunque Spieghiamo i consolini Praticamente Troviamo soltanto Le creaturine Che sono di terra Dopodiché Mi ha fatto girare per mezz'ora Tutto il mondo In lungo e in largo E mi l'ha fatti trovare solo di terra Steph è venuto Un piccolo dubbio Giustamente Sì, perché poi mi sono ricordato Che avevo certi oggetti Allora Lo vuoi in legno o in pietra? Eh Ma allora Devo capire una cosa Sì Allora Quindi mi stai facendo capire Che dalla terra Noi li possiamo potenziare E possono diventare Qualsiasi blocco? Non tutti Ma ce ne sono tanti Quindi anche i diamanti Lo smeraldo E cosa ci vuole per farlo in diamante? Non ti interessa Non lo puoi avere in diamante Iniziamo da una base E poi lo potenziamo nel tempo Esatto Legno 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 Va bene Piaceva di più anche a me Però pazienza Allora Dopo quello che hai combinato Mi sembra anche giusto Che io scelga Scelga il mio E poi tu scegli quello che avanza Allora Ho 15 fiorellini Ne ho visto uno qua Quindi vediamo Se lui vuole diventare Il mio nuovo amico Ciao bello Non te lo voglio Perché sei brutto E non ti ricordi nulla Non sei simpatica Allora 10 13 15 17 19 E 20 Mi segue Fere? No per niente Sì guardalo Ok Ciao bel blocchetto Che bellino Vado a cercare il mio Ok Allora Vado a cercare il mio Che non so dove trovarlo Guardate un pochettino Se noi facciamo così Abbiamo le statistiche Del nostro blocco Oltre che lo possiamo vedere qua Quanta vita Che danno fa La sua velocità Eccetera eccetera Possiamo anche decidere Cosa fa Possiamo decidere Se rimane ad aspettare Se si siede O se ci segue In questo caso Mettiamo che ci segue Non voglio mettere Che mi fa da guardia Perché altrimenti Rischia di schiattare In combat E non vorrei mai Come cosa E dopodichè Qua possiamo impostare Un lavoro Haunting Si mette ad attaccare Tutto quello che vede Quindi praticamente C'ha massa gli animali Eccetera eccetera Poi abbiamo Mining Che va in miniera A prendere dei minerali Woodcutting Che taglia gli alberi E farming Che ovviamente Fa la farm Quindi possiamo decidere Tutti i lavori del mondo Bello però Ci possiamo fare una farm E io per adesso Lo voglio lasciare Senza lavoro Perché voglio soltanto Che mi segua Adesso devo ricordarmi Come si fa evolvere Dato Che non mi ricordo proprio Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Ce l'ho fatta? Sì È di pietra Ciao bellissimo Il mio sta arrivando Guardalo Steph Corri 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 Guardalo È diventato anche più veloce Guarda il mio come lento Ci ho messo una vita Da arrivare Sì 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 poverino Aspetta vediamo Aveva meno vita Me lo dice Tanto me lo dice Speed 25 Quindi sì È migliorato tantissimo Adesso ha 31 di vita totale E ovviamente Quando ve lo volete curare Perché è ferito Perché appunto Non ha comunque la vita piena Dovete sempre usare i fiorellini Quindi facciamo così E adesso ha vita piena Dimmi A me è capitato scarso Perché? Vita 14 Il tuo è partito da 20 Eh Lo posso abbandonare? No Non lo voglio No ormai Scars Ferre ormai l'hai trovato Stai scarso Tanto lo potrei allenare Ferre E poi è carino Come posso vedere le sue statistiche Devi premere shift più destro Quindi control più destro Ogni volta ci caschi Eh vai Ok Ah vedi sì Danno due Cioè proprio Bellissimo Sì il mio faceva danno quattro Hai trovato una schiappa Hai trovato una schiappa Mi sembra giusto così Aspetta devo trovare il modo Di buttarlo via Vediamo un pochettino Vai Steph È scassissimo Ma io volevo un abile combattente Mi capita sta schiappa Danno due Beh beh Perché sei tu Quella forte a combattere Quindi non hai bisogno Di qualcuno che ti aiuta Lo puoi mettere Stanno andando ad affogarsi Steph Eh dai Se muore Ne posso prendere un altro Ma povero Ma salvalo Ma no Gli piace Guarda è felice Allora come lo evolvo Steph Come lo evolvo Un pokemon Allora Sempre shift Tasto destro Ok Poi vai Che succede? Non lo vedi Armato il mio Eh come hai fatto ad armarlo? Eh ho sbagliato Volevo controllare Le sue statistiche Faccio da sola Frugando proprio Qualcosa succede No? Ma io lo lascio così Con soline È troppo bello Devo scegliere un nome Comunque devi andare Nella seconda pagina Sì C'ho già fatta Steph Fai vedere Guarda come corre Più veloce del tuo Almeno Non ti segue però Perché scappa Invece che seguirti? Stai fermo Stai fermo Fermo Ah dovevo metterlo qua Giusto? Il following Sì E poi vai a destra Da wandering Devi mettere following Ok Ok Following Ok Comunque adesso Speed 33 Steph Ti ho battuto Sono più veloce Danno 4 però Ma il mio fa Damage 15 Cioè se ti metto a picchiarti Ti massacra il mio Ok io gli ho dato il nome Si chiama Coin Non so perché Mi sembrava carino Ci sta bene Mi piace un sacco Il tuo come si chiama? Woody È di legno Wood Woody Ok 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 Ci sta Non ridere Poi so che si dovrà evolvere Non rimarrà per sempre di legno Però tanto Woody si Cioè per ricordare le sue origini Rimarrà per sempre bene Allora Voglio giusto dal volo Una conferma Ti ho convinto al 100% Per fare la scienziata vita? Sì Ti ho mostrato quante cose bellissime Potremmo fare insieme? Però Steph ho una domanda Ne voglio tre No Dai No No Fere Faccio Woody 1 Woody 2 Woody 3 No Chiedo nei commenti Se tutti vogliono Che io ne voglia tre Non ci provate Votate Facciamo il sondaggio Steph Metti il sondaggio Se tutti vogliono Che io ne voglia tre Allora va bene Io non lo metto 3 per Fere Woody 1 Woody 2 Woody 3 Non accontentatene in queste cose Altrimenti avrà pretese Sempre più grandi Consolini Dovete capire Quando e come Dargli certe cose Farò l'esercito che uccideranno Il tuo coin Steph Aspetta E uccideranno anche te Guarda coin come adesso Ma smettiti dai di armi Armato fine dei denti Aspetta vediamo cosa gli posso dare Qualunque cosa Ma tu non c'è nulla Perché sei povera Dove glieli posso mettere Non so dove glieli posso mettere Eh non te lo dirò mai Eccoci tornati Allora ovviamente questa volta Non abbiamo bisogno di mettere nulla Nelle lavagne Perché coin e voody Rimarranno con noi per sempre Nel laboratorio Anche perché possiamo Li parcheggiamo da qualche parte Sì allora Infatti è quello che volevo far vedere Allora vieni qua bel coin Vieni 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 Guarda il mio come veloce Ma il mio ogni tanto Un po' Girati Non è proprio intelligente Tu giri È un tanto Steph Girati Ma ti siete perfetti Ok Ma non è vero Faccio sitting E praticamente lui rimane qua Guardate Ma il mio sta di spalle Girati No vabbè Poi si gira lui quando come vuole Vedi alla fine fanno un po' Quello che vogliono Ferre Secondo me c'è una cosa importantissima Nei prossimi video Dobbiamo trovare una cuccia Per Woody e coin Sì Vero Perché così Quando li lasciamo qua fermi seduti Almeno Diciamo Sono comodi Sono comodi Sì Poi invece Quando ci serviranno Magari ci sono materiali O ci serve comunque una difesa Ce li portiamo con noi Nelle nostre avventure Sono d'accordo Comunque Direi che ci possiamo fermare così Spero di averti realmente convinta No oggi è andata alla grande Questi sono davvero fantastici Lo sapevo E poi li teniamo a vita Quindi so che Quando si tratta di animaletti Che tiene a vita Sei sempre felice Dal prossimo video Ferre Avremo bisogno Di iniziare a guadagnare Qualche soldo Sono d'accordo Quindi inizierò A far venire Altrimenti Woody e coin muoiono Perché? Di fame Ma i fiori li troviamo Comunque in giro Dai Moriamo noi di fame Moriamo tutti Capisci È triste poi Ma che cosa triste Inizierò male Comunque inizieranno a venire clienti E noi dovremo iniziare A fare delle creazioni Per soddisfarli Ragazzi Adesso è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao